Ma la cosa che io riesco a vivere più di tutti è che io faccio 4.500 metri, non incontro neanche una barriera, io arrivo a terra senza problemi, ho più difficoltà ad andare al bar a prendere il caffè piuttosto che scendere nel paracadotto, è paradossale ma è vero, è così.